Parte con l'Udinese la stagione della Juve di Max Allegri, bianconeri proprio contro i friulani che l'anno scorso dietro in là la mini crisi iniziale dei campioni d'Italia aprirono questo tour de force con il rischio maggiore rappresentato proprio dal fatto di non distrarsi, di non pensare già alla delicata trasferta di Lione né alle importanti partite che poi seguiranno in campionato, risponderti con il Milan e il Napoli ne sono un esempio è un Max Allegri che ritrova prima di tutto Claudio Marchisio tra i convocati, è un autentico acquisto per la rosa bianconera sotto ogni punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista psicologico il principino ha da sempre un impatto decisivo si vede tra i convocati anche il giovanissimo che anzi dovesse debuttare, sarebbe il più giovane juventino in Serie A di tutti i tempi fuori dai convocati Bonucci e Dani Alves proprio in vista della Champions per il resto è una Juve che riparte al 3-5-2 con Mazzucchi in attacco e Licksteiner sulla destra, quali sue certezze? La Torino è tutto per calciomercato.com, Nicola Badice